Sono circa un centinaio gli scienziati astrofisici provenienti da tutto il mondo, dall'Asia alle Americhe, dall'India all'Europa, che partecipano al congresso Astrophysical Polarimetry in the Time Domain Era. Organizzato al Polo Lecchese del Politecnico di Milano da INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica di Brera, con il supporto di Univerlecco, il workshop approfondisce il tema delle possibilità di raccolta di informazioni avanzate che la polarimetria offre all'astrofisica contemporanea. È un congresso di astrofisica specialistico evidentemente, è un congresso internazionale, circa tre quarti dei partecipanti sono stranieri ed è una cosa organizzata in forte collaborazione con Univerlecco. Il campus del Politecnico è molto bello, funzionale e la collaborazione con gli istituti lecchesi è stata decisamente efficace. Ricca e articolata l'occasione di confronto offerta ai partecipanti fino a giovedì 1 settembre. Ci sono le proposte in cui una persona spiega, parla del proprio lavoro oralmente alle persone nella sala e anche a coloro che seguono remotamente, altrimenti è possibile anche preparare una specie di elaborato, un grosso pannello con figure e testo dove possono far vedere il loro lavoro e comunque avere un feedback degli altri specialisti per una discussione. La polarizzazione per intenderci è un po' come se la luce che noi riceviamo da una sorgente mantenesse dei ricordi sulla geometria della sorgente o dei fenomeni che ha incontrato lungo la strada. Per esempio se noi abbiamo usato a volte degli occhiali polaroide, degli occhiali da sole polaroide, noi in pratica stiamo utilizzando lo stesso fenomeno per proteggere gli occhi. Ora potete immaginare cosa può succedere in sorgenti astrofisiche distanti letteralmente a volte miliardi di anni luce, dove però studiando la polarizzazione siamo a volte in grado di capire il percorso che la luce ha fatto verso di noi, che fenomeni fisici hanno generato questa emissione e a volte anche si possano avere informazioni sulla geometria della sorgente. Un tema altamente specifico quindi, ma proprio quest'estate le immagini meravigliose del telescopio James Webb ci hanno dimostrato quanto i progressi tecnologici permettono a tutti noi di avvicinarci ai fenomeni del cosmo.